Allora stiamo vedendo il flash mob tu sì tu no, io non ci sto senza DPI, siamo veramente stanchi, oggi stiamo dando voce alle lamentele, al grido di allarme che sta lanciando l'ospedale di Rivoli e tutta l'ASL Torino 3. Vedete nel nostro flash mob ci sono dei cartelli rossi, questi rappresentano lo stato di emergenza in cui si sta trovando la sanità piemontese e quella dell'ASL Torino 3 compresa. C'è un vuoto tra i codici rossi e il codice nero che state vedendo sulla sinistra, questo vuoto è il tempo di latenza tra l'assenza di risposta che sta avvenendo nella richiesta all'intervento da parte di tutti gli operatori e alle istituzioni, cosa che non sta succedendo oggi è che ci sta portando ad evolvere questo codice rosso dall'emergenza a una crisi di uno status veramente critico che è rappresentato dal codice nero che vedete sulla sinistra. Questa è la nostra protesta, una protesta civile, statica, che serve per dar voce a tutti i lavoratori che oggi sono stan. Tu sì, tu no, senza DPI non ci sto! Tu sì, tu no, senza DPI non ci sto!